E non fare il magazzino muffito! Oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra, sul tasto, supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE! TAIE! OEEE! Bella a tutti ragazzi e benvenuti a un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi, stella segreta della settimana numero 6, quella relativa alle sfide, il ritorno! Semplicissima ragazzi, dobbiamo atterrare a lande letali e proprio sul pontile, come vedete, troveremo la stella numero 6, la prendiamo, ce la portiamo a casa e 10 stelline del pass battaglia per tutte noi! Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, mi raccomando, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo presto in live! Ciao! Ciao!